La Quaresima è un periodo di penitenza, anche di mortificazione, ma non fine a se stesso, bensì finalizzato a farci risorgere con Cristo, a rinnovare la nostra identità battesimale. In occasione del mercoledì delle Ceneri, che inaugura il tempo liturgico della Quaresima, Papa Francesco ha ricordato che ogni cristiano è chiamato a rinnovare costantemente il proprio cammino verso la libertà. E i 40 giorni che precedono la Pasqua sono un'occasione eccellente per affrontare le tentazioni e superarle, compiendo il proprio esodo, come fecero gli israeliti dall'Egitto, come fece Gesù aprendoci la via a una vita piena ed eterna. Ma ogni storia d'amore richiede impegno, un sì personale, una partecipazione attiva. Aprirci la strada alla vita eterna gli è costato tutto il suo sangue e grazie a lui noi siamo salvati dalla schiavitù del peccato. Ma questo non vuol dire che lui ha fatto tutto e noi non dobbiamo fare nulla, che lui è passato attraverso la croce e noi andiamo in paradiso in carrozza. No, non vuol dire questo. Non è così. La nostra salvezza è certamente dono suo, ma poiché è una storia di amore, richiede amore, richiede il nostro sì e la nostra partecipazione al suo amore, come ci dimostra la nostra Madre Maria e dopo di lei tutti i Santi.